Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. In A1 per consentire lavori di installazione di New Jersey nelle notti di domani e martedì 13 giugno in orario 22.6 sarà chiuso il tratto compreso tra Calenzano Sesto Fiorentino e Barberino di Mugello in direzione Bologna. Si ricorda che la statale 223 di Paganico è chiusa per circa un chilometro e mezzo in direzione Grosseto nei pressi di Campagnatico a causa di uno smottamento. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!